Ho detto che mi considero fortunato per essere stato scelto da questa giunta regionale dal Presidente D'Alfonso e doppiamente fortunato per il lavoro fatto dall'amico Presidente Mattoscio. Si tratta con questa nuova squadra di fare un lavoro collegiale, sobrio e concreto. Qualche idea l'abbiamo in mente, qualche settimana di tempo per capire bene le cose e poi cominciamo a lavorare ventri a terra, mi venirebbe il Presidente della Regione. Grazie. Grazie.